Un fisco più leggero per piccoli professionisti e per chi inizia una nuova attività. A cominciare dal capitolo, partite IVA da inserire nella prossima legge di stabilità. L'esecutivo infatti è intenzionato a rivedere il regime forfettario dei minimi per coloro che decidono di aprire una partita IVA a tassazione agevolata. Sulla materia, Palazzo Chigi è già intervenuto prorogando fino al 31 dicembre la possibilità di aprire una nuova partita IVA con aliquota al 5%, decisione questa che ha avuto grande successo considerando il boom dei lavoratori autonomi. Inoltre si studia la possibilità di alzare da 15 a 30 mila euro il tetto dei ricavi per i liberi professionisti, mentre per i primi 5 anni di attività delle start-up l'aliquota dovrebbe scendere da 15 al 5% a beneficiare di queste nuove misure una platea di oltre 1 milione 800 mila lavoratori che sulla dichiarazione dei redditi del 2014 hanno riportato un volume d'affari inferiore ai 30 mila euro. Nello studio anche la possibilità di una tax day per l'unificazione delle scadenze fiscali. Giornate frenetiche dunque per il governo in vista della presentazione della legge di stabilità e il ministro dell'economia Padoan ribadisce la necessità di tagliare le tasse sulla prima casa. Un intervento sulla tassi garantisce il titolare del dicastero di via 20 settembre avrà migliori effetti sull'economia di una riduzione del costo del lavoro. Per quanto riguarda invece le pensioni Padoan spiega come la flessibilità in uscita dal lavoro non può essere a costo zero.